il Sagittario. Amici del Sagittario, una giornata molto bella, ecco perché voi sarete di ottimo umore in questo sabato, siamo alla fine di una settimana che vi ha visto in alcuni momenti anche in grande difficoltà proprio da un punto di vista fisico devo dire, lo stress, la fatica che avete accumulato negli ultimi giorni si è fatta sentire, adesso però potete recuperare perché questa è una luna ideale per proprio dedicarsi agli hobby, alle attività capaci di farvi scaricare la tensione, lo stress, di regalarvi anche dei momenti di allegria, di grande divertimento, potete farlo in compagnia dei vostri amici meglio se riuscirete anche a coinvolgere il partner in quello che farete perché c'è bisogno di condivisione in questo periodo visto che ogni tanto vi allontanate dalla persona amata e questo non fa bene il rapporto di coppia. Andiamo al segno delle...